La proposta di Capacci suona come una provocazione. Il Partito Democratico la sua scelta l'ha fatta e non cambia idea, in cambio di nessun assessorato. A parlare è il segretario provinciale del PD Pietro Mannoni, che replica le considerazioni avanzate dal sindaco d'Imperia. Gli fa ecco la capogruppo del PD in Consiglio Comunale Gianfranca Mezzera, che parla di Capacci come un uomo che voleva restare solo al comando e invece è un uomo isolato. La Mezzera evidenzia inoltre come ieri sera il Consiglio abbia approvato una mozione nella quale si impegna al sindaco a chiedere ad Amat di ritirare la richiesta di commissariamento del lato idrico. Sulla mozione è stato inserito anche un emendamento di Forza Italia e Imperia Riparte, nel quale si evidenzia come le decisioni assunte dal CDA di Amat, vista la loro gravità, avrebbero dovuto essere condivise con il comune socio di maggioranza. Giuseppe Fossati di Imperia Riparte sottolinea che in sostanza il Consiglio impone a Capacci di censurare l'operato del CDA di Amat, che lui stesso ha appena rinnovato e che in una situazione normale gli interiore interessati si dovrebbero dimettere. La battaglia politica imperiese insomma non si placca nemmeno in vista del Natale.